Buonasera e ben trovati in questa terza edizione del TG6 che iniziamo con la cronaca. Emergono nuovi aspetti nell'inchiesta della Procura dell'Aquila sulla realizzazione dei balconi nelle New Town. Per la Procura ci sarebbero gravi carenze sia nei materiali utilizzati sia nella realizzazione. Vediamo. Costruiti male, con materiale scadente e senza certificazioni. Si aggiungono particolari inquietanti nell'inchiesta sui balconi realizzate nei progetti case, uno dei quali addirittura venne giù nel settembre 2014 a Cese di Preturo. A sostenerlo è il Procuratore Roberto Davoglio che al termine della sua indagine ha ipotizzato una truffa ai danni dello Stato per 18 milioni, portando all'emissione di 37 avvisi di garanzia. Frode nelle forniture, truffa ai danni dello Stato, false documentazioni e crollo del balcone sono i reati contestati agli indagati che si dividono in due grandi gruppi. Da un lato chi ha realizzato materialmente balconi inferriate e dall'altro chi invece ha vigilato, o avrebbe dovuto, secondo l'accusa, dal punto di vista formale, tecnico ed amministrativo, alla costruzione degli stessi. Le indagini, condotte dagli agenti del Corpo Forestale dell'Aquila, sono scattate dopo il crollo del balcone di Cese, ma tutti gli 800 balconi costruiti nei nuovi quartieri, sorti dopo il sisma, sono stati oggetto di verifiche e controlli. Oltre ad una serie di tecnici del Comune dell'Aquila, alcuni dei quali già coinvolti in altre inchieste sempre collegate al posto terremoto, imprenditori e tecnici, tra i principali indagati figurano il progettista dei lavori, Gian Michele Calvi, ed il responsabile unico del procedimento, Mauro Dolce, esponente di spicco della protezione civile. Entrambi assolti nel secondo grado del processo alla Commissione Grandi Rischi, i loro nomi figurano in un'altra inchiesta sempre legata al progetto case, quello relativo alla realizzazione degli sonatori sismici, i dispositivi posizionati sotto le 19 piastre delle Newtown, un'indagine lunga e complessa, quella sui balconi, come ha ricordato il procuratore capo Fausto Cardella, che ha spiegato come dopo la notifica degli avvisi di garanzia, le persone coinvolte potranno chiedere supplementi investigativi e provare a far valere le loro ragioni. Trattandosi di un avviso di conclusione e indagini, è un momento di interlocuzione con gli indagati, i quali hanno la possibilità, entro un certo termine, di presentare memorie, di chiedere supplementi di investigativi, ecco perché dicevo, relativa conclusione delle indagini, e quindi di far valere le loro opinioni. L'indagine si è stesa anche ai solai di queste strutture, perché? Perché a seguito di accessi effettuati anche dalla forestale, si è riscontrata la presenza di solai notevolmente abbassati. E quindi l'oggetto dell'accertamento, che è stato fatto tramite lo strumento della consulenza tecnica, ha portato ad una verifica più approfondita di questi moduli costruttivi, quindi oltre il balcone, delle strutture linee, dei solai, della staticità delle piastre in questione. A quattro mesi dall'omicidio di Roberto Tizi, il 35enne marchigiano, residente a Martinsicuro, freddato il 7 giugno scorso con due colpi di pistola sotto la sua abitazione, mentre stava rincasando, la procura di Teramo chiude le indagini sull'agguato e conferma le ipotesi di reato per i quattro albanesi arrestati per l'assassinio. Per Arian Ziu, il reo confesso dell'omicidio, il fratello Michele e i due figli di quest'ultimo, Rudy e Antonio, tutti ancora detenuti in carcere, la procura conferma le ipotesi di reato di omicidio volontario aggravato, lesioni personali aggravate nei confronti della compagna di Tizi, che quella sera si trovava in macchina con lui, e il porto abusivo di arma. E ora parliamo della condanna dell'ex manager dell'ASL di Teramo, Varrassi, tre anni e due mesi all'ex numero uno della sanità teramana, condannati anche il suo ex autista Giovanni Lanci, l'ex direttore amministrativo Lucio Ambrosi e l'ex direttore sanitario Camillo Antelli. Tre anni di reclusione all'ex manager dell'ASL di Teramo, Giustino Varrassi, per peculato e per abuso d'ufficio, un anno al suo ex autista Giovanni Lanci per appropriazione in debita, truffa e falso, e quattro mesi all'ex direttore amministrativo Lucio Ambrosi e all'ex direttore sanitario Camillo Antelli per abuso d'ufficio, mentre sia Varrassi che Lanci sono stati assolti da alcuni capi di imputazione relativi sempre alla truffa aggravata. Sono le condanne inflitte dai giudici del Tribunale di Teramo nell'ambito del processo per l'indebito utilizzo dell'auto blu da parte di Varrassi e del suo ex autista e sulla promozione dell'urologo Corrado Robimarga. Processo che vedeva davanti ai giudici anche i dirigenti, Maurizio Di Giosia, Vittorio Scuteri, Corrado Foglia e Gabriella Palmeri, componenti della commissione di inchiesta chiamata a decidere sul procedimento disciplinare di Robimarga, allora coinvolto in un'altra inchiesta, e finiti a processo per abuso d'ufficio e poi assolti da ogni accusa. Il processo terminato ieri pomeriggio aveva riunito le due inchieste principali aperte nel 2012 dal PM Davide Rosati sulla ASL di Teramo, quella sul presunto indebito utilizzo dell'auto blu e quella sulla promozione dell'urologo. Inchiesta quest'ultima che vedeva Varrassi, Antelli, Ambrosi, Di Giosia, Scuteri, Foglia e Palmeri rispondere di abuso d'ufficio in merito all'affidamento a Robimarga dell'unità di urologia endoscopica di Giulianova. Affidamento che secondo l'accusa sarebbe avvenuto a dispetto dell'inchiesta penale che in quel momento vedeva coinvolto il medico e per la quale sono stati condannati Varrassi, Antelli e Ambrosi e con la commissione disciplinare che avrebbe indebitamente sospeso la procedura disciplinare a carico dell'urologo. Ed è proprio sulla vicenda relativa alla questione Robimarga che ieri, nel corso delle repliche, era tornato lo stesso PM Rosati che aveva chiesto e ottenuto di acquisire agli atti la documentazione con cui la Procura Generale presso la Corte dei Conti contesta a Robimarga in relazione al procedimento per il quale è stato condannato in Corte d'Appello ad un anno e otto mesi per truffa e falso un danno patrimoniale di 20.000 euro e un danno di immagine di altrettanti 20.000 euro. I giudici hanno concesso la sospensione della pena per Lanci, Antelli e Ambrosi e disposto per Varrassi l'interdizione dai pubblici uffici per due anni e due mesi. Dopo la lettura della sentenza, l'ex numero uno dell'Asl di Teramo, Giustino Varrassi, ha deciso di non rilasciare commenti. È stata rinviata al prossimo 23 febbraio l'udienza davanti al gruppo del Tribunale di Pescara, Gianluca Sarandrea, relativa all'inchiesta sui tetti di spesa delle cliniche private per l'anno 2010 che conta tra i cinque imputati, l'ex governatore della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, l'ex subcommissario Giovanna Baraldi e l'ex assessore regionale alla Sanità, Lanfranco Venturoni. Il rinvio si è reso necessario per consentire al perito Caterina del Zingaro di completare la trascrizione delle intercettazioni. Cambiamo pagina. Dopo le polemiche inerenti, l'ordinanza sulla balneabilità, il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, ha riunito ieri il PD. Un incontro fiume, confermata la fiducia nei confronti del primo cittadino. Il PD di Pescara si scusa, ma ribadisce la propria fiducia al sindaco Alessandrini. Dopo le lunghe polemiche e le denunce fatte dall'opposizione nei confronti del comportamento del primo cittadino sul caso dell'ordinanza di balneazione retrodatata, nel pomeriggio di ieri tutti i componenti del Partito Democratico si sono seduti intorno a un tavolo per discutere della bagarre scoppiata in città che ha visto chiedere dal centrodestra e Movimento 5 Stelle le dimissioni di Marco Alessandrini. Il tema non è quello della fiducia al sindaco che non è mai stata messa in discussione, quanto della fase 2 che noi dobbiamo attuare, perché se in questo anno e mezzo siamo stati dediti al risanamento, ecco che ora comincia ad arrivare il momento di raccogliere qualche frutto di questa politica sicuramente pesante, però le idee ci sono, le progettualità anche e dunque continuiamo nella nostra guida amministrativa di Pescara. Se fino ad oggi il sindaco di Pescara aveva subito attacchi e manifestazioni di dissenso da parte dell'opposizione, adesso invece è il PD ad alzare la voce e mettere anche per iscritto sui manifesti che il risultato dell'attuale situazione è frutto della precedente gestione, ovvero quella del centrodestra che invece accusa lui in una guerra che punta a togliere credibilità al suo operato. Diciamo che la politica è uno sport pesante per cui le critiche talvolta divengono conctumelia, come è accaduto questa stagione, in cui insomma il sottoscritto è stato abbastanza linciato da una certa stampa, però sono inconvenienti del mestiere, non ci facciamo intimidire e proseguiamo con la barra bella dritta. La provincia di Teramo ha sbloccato altri 4 milioni di euro per i lavori sulle strade e le scuole terramane. Il contributo totale a oggi è di oltre 6 milioni di euro. Questi oltre 6 milioni di euro, come si è riuscito a sbloccarli oggi? Perché oggi e non prima? Effettivamente con l'arrivo della nuova provincia c'erano diverse opere bloccate, opere di lavori pubblici importanti, strade e scuole. Alcuni lavori sono stati fatti già nella scorsa primavera, legati soprattutto all'alluvione che c'è stata a marzo. Altri stanno per partire adesso, penso alla 18 per Varano, a Varano-Fontecucchi, alla Specola, la strada che va a Poggiocono, ci sono delle frane di monte, di valle e parti di asfalto, a Castagneto si sta lavorando, a Villaripa nel 2016 pensiamo di intervenire a Travazzano dove c'è una frana importante, la strada che va a Valle San Giovanni e anche a Castrogno verso il carcere. Abbiamo chiesto un finanziamento alla regione all'interno di altri finanziamenti perché anche lì i cittadini, ma anche poi c'è il carcere, chiedono di sistemare la strada provinciale. Diverse cose sono state fatte anche prima per un importo complessivo di oltre 2 milioni e mezzo di euro. Anche sulle scuole ci sono circa 4 milioni di euro su Teramo Capoluogo, sono soldi che derivano dal terremoto e sono cantieri che tra breve partiranno, i progetti si stanno realizzando e quindi speriamo che il prima possibile di mettere in sicurezza anche queste strutture. E ora torniamo a parlare dei problemi al CUP dell'Aquila. Dopo gli scioperi dei giorni scorsi i dipendenti annunciano una nuova due giorni di sciopero per i prossimi 3 e 4 novembre. Sciopereranno per altri due giorni 32 lavoratori del CUP dell'ospedale regionale San Salvatore dell'Aquila, il centro unico prenotazioni del nosocomio aquilano, in stato di agitazione per il trattamento ritenuto iniquo della GPI, l'azienda che gestisce il CUP. Dopo lo sciopero all'unanimità del 12 ottobre scorso, nei giorni 3 e 4 novembre, come annunciato dalle compagini sindacali UGL e UIL, i dipendenti del CUP incroceranno di nuovo le braccia per chiedere all'azienda sanitaria il pagamento delle trasferte settimanali che fino ad oggi non sono mai state retribuite e la stabilizzazione definitiva nella sede sanitaria del capoluogo di regione. Quattro giorni prima dello sciopero, si legge in una nota del segretario provinciale dell'UGL Giuliana Vespa, la GPI ha inviato ai lavoratori una mail in cui ha chiesto chi volesse ridursi le ore, in base volontaria, e di comunicarlo all'azienda. L'azienda avrebbe comunque proceduto d'ufficio alla riduzione del monte ore. Continuano a mandare a proprie spese i lavoratori aquilani fuori sede e fanno venire degli operatori a chiamata a lavorare sull'Aquila. Perché i lavoratori aquilani devono ridursi le ore se le condizioni di appalto sono le stesse? E perché continuano a far lavorare sull'Aquila altre persone non aquilane? Ci sono favori da fare a spese dei lavoratori aquilani, si chiede la sindacalista. Intanto l'ASL annuncia il potenziamento del servizio per l'utenza attraverso il raddoppio delle prostazioni di lavoro e una maggiore numero di ore di attività di call center. È quanto scaturito dall'incontro che si è svolto tra la direzione dell'ASL numero 1 e il servizio CUP e pagamento ticket. Dal confronto con la GPI, comunica la direzione ASL, è venuta fuori un'incesiva riorganizzazione riguardante l'attività di prenotazione delle visite attraverso il call center, con il raddoppio del numero di postazioni di lavoro che passeranno dalle attuali 4 a 8. Tale notevole incremento di attività avrà, come ovvia conseguenza, un ampliamento del numero di ore di lavoro e quindi un aumento del numero di operatori impegnati. Evidentemente l'annuncio dell'ASL non è servito a fermare la programmazione dello sciopero. A Teramo si torna a parlare del progetto dell'eliminazione dei passaggi a livello a Villa Pavone. Questa mattina sull'argomento ha parlato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Berardini. Risposte certe, tempi e soprattutto le modalità con cui si intende agire per non creare ulteriori disagi ai cittadini. Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Teramo, Fabio Berardini, non è soddisfatto di come si siano svolti la scorsa settimana i lavori in commissione, quando si è discusso, insieme alle ferrovie dello Stato, il progetto per l'eliminazione dei quattro passaggi a livello a Villa Pavone. Questa mattina, durante il consiglio comunale, torna all'attacco. Noi abbiamo chiesto, ed è stato chiesto da più parti anche in sede di commissione consigliare, se sono stati valutati anche dei progetti meno dispendiosi, perché comunque sono sempre soldi pubblici. E' stato risposto che non c'erano altri progetti, invece l'architetto Falasca ha comunque confermato che erano state presentate in passato delle ipotesi meno dispendiose, poiché questo progetto costerebbe alla collettività comunque circa 6 milioni di euro. Inoltre, il sindaco ha sempre sostenuto che la città di Teramo deve essere una città del pedone della bicicletta, in quest'opera non viene minimamente conteggiato un passaggio ciclopedonale. Ecco, questa è una situazione che va verificata, in quanto delle persone che vogliono andare a trovare dei propri cari magari al cimitero di Cartecchio, in bicicletta con questo progetto non lo potrebbero fare. Nessuna risposta concreta è stata data riguardo all'organizzazione del traffico veicolare su come verrà deviato. Ecco, loro tendono a scaricare tutto sulla ditta che dovrà eseguire il lavoro, senza prendersi alcuna responsabilità di dare delle indicazioni chiare su come verrà deviato il traffico e su come arrecare il minor disagio possibile ai cittadini interessati della zona. In tarda mattinata, nel corso del Consiglio Comunale di Teramo, i consiglieri di Fratelli d'Italia, Mimmo Sbraccia e Raimondo Micheli, hanno annunciato la loro fuoriuscita dalla maggioranza. Micheli e Sbraccia hanno motivato la rottura con il mancato coinvolgimento su questioni prioritarie per la città, quali i poli scolastici e i progetti sulla viabilità. Dopo la notizia, il Partito Democratico è andato all'attacco del sindaco Maurizio Brucchi, commentando come il gesto dei due consiglieri è figlio del generale malessere di gran parte dei consiglieri della maggioranza. Il PD per questo motivo chiede di fare un passo indietro al primo cittadino e lo invita a dimettersi. A Montesipano si è svolto il XXIII Congresso dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio. L'attenzione è stata puntata sulla tutela e sui diritti non garantiti a tutti gli uomini e le donne rimasti vittime di mutilazioni nel compimento del proprio dovere. Un congresso dedicato ai diritti dei mutilati in servizio che si battono per un'adeguata tutela di leggi più giuste. Si parla di 350.000 iscritti sul territorio nazionale e Montesilvano, nella sua ventitresima edizione, diventa il palco dal quale far partire a gran voce una richiesta al Governo nazionale. Noi da anni rivendichiamo una serie di miglioramenti sia pensionistici sia lavorativi per questa categoria e chiediamo alla collettività di starci vicino per portare avanti queste nuove situazioni. Oggi questo congresso traccerà le linee programmatiche per i quattro anni futuri. Un esercito di persone silenziose, così sono definiti tantissimi uomini e donne, che per servire il proprio paese vedono la propria vita cambiare per sempre, spesso dimenticati da quelle istituzioni che chiedono i loro sacrifici. È importante ricordare l'impegno, la completa disponibilità del personale delle forze armate in generale, delle forze dell'ordine e quello dell'esercito in particolare, che è testimoniato a maggior ragione oggi, come si può vedere da parte di tutti i cittadini, dall'impegno che le forze armate hanno e continuano a dare sia sul territorio nazionale e sia nel territorio internazionale. Nel centenario della Prima Guerra Mondiale lo scenario torna ad essere quello della guerra e tanti sono in questo momento gli uomini impegnati nei territori di guerra, a rischio della propria vita. Il nostro dovere è quello di intervenire in tutte le aree dove sono delle crisi, infatti come è noto noi siamo in Afghanistan, siamo nei Balcani, siamo in Libano, siamo in Iraq eccetera. Il nostro compito è quello di far sì che il mondo sia pacificato, speriamo di riuscire nel nostro intento. L'Unione Nazionale dei Mutilati per Servizio chiede oggi tutele e diritti per quegli eroi silenziosi, forti e valorosi che hanno dato alla loro patria un pezzo di sé, confidando in quel valore, spesso dimenticato, che è la riconoscenza. È giusto riconoscere a chi si è immolato in servizio, a chi davvero ha dato gli anni più belli della sua vita e parte del proprio futuro, i riconoscimenti minimi che credo siano sinonimo di dignità e di ringraziamento verso quelle persone che hanno speso tanto per la città e per la società. È svolto questa mattina a Teramo presso la Camera di Commercio un incontro in occasione della quarta giornata della trasparenza. Questa è una giornata importante per la Camera di Commercio di Teramo perché è un appuntamento, il quarto appuntamento sulla trasparenza, sulla trasparenza che è essenziale per la lotta alla corruzione, la misura principale per la lotta alla corruzione. Con orgoglio devo dire che la Camera di Commercio di Teramo ha adempiuto tutti i 67 adempimenti dettati dalla legge. È un momento importante, un momento di confronto, un momento di visibilità perché è giusto anche con orgoglio far conoscere anche ad esempio il sito, la bussola della trasparenza dei siti web italiani in cui la Camera di Commercio è all'interno inserita come un fiore all'occhiello per la regione Abruzzo e per l'Italia. La vicinanza della Camera di Commercio nei confronti delle imprese del territorio per la trasparenza della legalità, la riforma della pubblica amministrazione è nel pacchetto che il Governo sta discutendo, le fusioni delle Camere di Commercio sono in itinere, Pescare e Chieti già il Mise, il Ministero ha già deciso, noi come Camera di Teramo nei prossimi giorni porteremo l'attenzione della Giunta e anche del Consiglio il percorso di fusione o accorpamento per quanto riguarda Teramo-L'Aquila. Senza campanilismi, senza svendere il territorio, immaginando un percorso di un territorio importante salvaguardando quello che è la territorialità, la terramanità. È un processo all'attenzione delle forze imprenditoriali e all'attenzione delle forze politiche e all'attenzione soprattutto di noi che governiamo la Camera di Commercio perché abbiamo a cuore gli interessi generali delle nostre imprese. La settimana appena trascorsa è stata dedicata in tutta Europa alla programmazione. A Lanciano si è celebrato l'evento conclusivo dello Europe Code Week 2015 a cui hanno partecipato 4.000 studenti di ogni ordine e grado con cui si è voluta promuovere la cultura digitale. La Commissione europea sostiene la campagna EU Code Week, settimana europea della programmazione, una settimana durante la quale i ragazzi di tutte le scuole, i ragazzi delle scuole d'Europa, in tutta Europa in simultanea, sono messi in contatto con la programmazione e con il pensiero computazionale. Questo mondo, questa rivoluzione digitale ha un impatto forte sul mondo del lavoro. Il mondo del lavoro richiede competenze digitali. Queste competenze sono sviluppate nelle scuole. Evidentemente la campagna del codice e la campagna della programmazione non sfornerà competenze digitali, non sfornerà ingegneri e informatici, ma speriamo attiri un maggior numero di ragazzi verso lo studio delle materie, verso lo studio dell'informatica e dell'ingegneria. Si tratta del coding, del pensiero computazionale, di una competenza trasversale, indispensabile in piena fase digitale, sia da un punto di vista sociale e culturale, ma ancora di più da un punto di vista economico ed occupazionale. È impossibile pensare di costruire una prospettiva per un giovane senza attingere a questo tipo di competenza. Ed ora la pagina sportiva, parliamo subito di Pescara. Migliorano le condizioni degli infortunati Fornasier, Zampano e Memuschai, ma nonostante tutto sarà molto difficile vederli in campo nella gara di venerdì, l'anticipo delle ore 19 all'Adriatico Cornacchia contro la Provercelli. È molto probabile che il tecnico Oddo confermi la linea difensiva vista all'opera contro il Trapani, dunque con Crescenzi e Fiamossi sulle laterali, con Zuparic e Campagnaro al centro. Chi ci sarà sicuramente è l'attaccante Gianluca Lapadula, che è il giocatore del momento in casa biancazzurra, va in gol da quattro partite consecutivamente. Oggi ha parlato Lapadula, è intervenuto anche su qualche critica che gli è stata mossa dopo la gara di Ascoli, cioè quella di essere a volte egoista e di non passare il pallone, critiche che Lapadula ha rimandato al mittente. Allora Gianluca, hai iniziato da Vicenza e non ti fermi più? È sicuramente un buono score fare quattro gol in quattro partite, però io penso che la cosa importante da vedere in questa fase sia la prestazione della squadra, soprattutto i punti che stiamo iniziando a fare, pesanti e dobbiamo continuare così. Una sorta di provocazione, Lapadula Caprari somiglia un po' a Donnarumma Lapadula? Il tipo di movimenti? I movimenti sono stati gli stessi che con Andrea comunque, perché comunque facciamo molti scambi. Per caratteristiche è normale Gianluca assumire più ad Alfredo, perché è una punta più mobile, però secondo me le stesse giocate le abbiamo fatte anche con Andrea. Oltre 20 gol in Lega Pro, ma se li fai in B valgono molto di più, lo sai? Non sto pensando ai 20 gol in B, anzi sto pensando a solo Vercelli, perché è una squadra della mia regione, è una partita che comunque per me è importante, ho in mente solo la Pro Vercelli. È possibile che per giustificare la sconfitta di Ascoli qualcuno ha dovuto dire che Lapadula è egoista, che abbassa troppo la testa, bisogna così distorcere poi la realtà? Sì, l'ho sentito anch'io queste voci, però ho rivisto la partita e ho visto che io la palla la provavo a dare, non è che non provavo a darla, sbagliavo il passaggio, ma non che io non provassi a dare il pallone, perché sicuramente sarebbe un pensiero, al di là dell'egoismo, brutto, perché non dovrebbe fare gol Cocco o Gianluca o Benaglio o chi per esso. Lapadula prova a fare il suo e ogni tanto ha dei limiti che deve migliorare, però non c'è nessun pensiero negativo. Anche perché lo scorso anno abbiamo visto che sei tutt'altro che egoista? No, tanta gente non lo sa perché la Lega Pro non l'ha seguita l'anno scorso, ma io l'anno scorso, chi lo sa, ho sempre stato uno che gli ha fatti fare i gol e ho lasciato pure i rigori quando potevo calciarli, quindi non è una questione di voler far gol. Semplicemente o non l'ho visto o ho sbagliato il passaggio. Massimo Oddo com'è? Il mister mi ha trasmesso un entusiasmo veramente importante, anche tanta fiducia, io di questo lo ringrazio, ma ringrazio anche la squadra che mi sta dando una grossissima mano. Per esempio a Trapani, prima della partita sono venuti Bruno, il mister in seconda Donatelli, eppure Andrea Cocco mi hanno detto che il Trapani si offriva la palla lunga, mi hanno dato qualche consiglio e mi è stato di grandissimo aiuto. Oggi si è pronunciato il giudice sportivo della Serie B che ha fermato per un turno cinque giocatori, sono Pestrin della Salernitana, Canini dell'Ascoli, Postigo dello Spezia, Perticone del Trapani e Mazzitelli del Brescia. Quest'ultimo dunque salterà la gara di sabato prossimo al Rigamonti tra il Brescia e la Virtus Lanciano, Virtus che oggi ha svolto una doppia seduta di allenamento, ancora una volta assenti, Crecco e Di Francesco impegnati in uno stage con la B Italia, ma da domani torneranno a disposizione del tecnico Roberto D'Aversa. Una Virtus che pur non avendo brillato sotto il profilo del gioco ha ritrovato la vittoria sabato contro il Com, e questo permette al gruppo di lavorare con maggiore serenità e preparare questa trasferta, diciamo così, anche tabù, perché in tre precedenti esibizioni la Virtus non ha mai vinto al Rigamonti. La vittoria sul Como ha alleviato un po' di pressione dalle spalle della Virtus Lanciano. Per carità, se non fosse arrivata la vittoria, la stagione non sarebbe stata certo compromessa, ma sarebbe stato inevitabile un po' di fermento, in un ambiente che non vedeva la vittoria dalla seconda giornata e con una astinenza dal gol che iniziava ad essere preoccupante, nonché una classifica che con un pareggio, avrebbe visto i frentani ad un punto dall'ultimo posto. Una sensazione cui i tifosi non erano abituati, visto che nelle ultime due stagioni la Virtus si era già posizionata all'interno o ai margini della zona playoff a questo punto della stagione. Ma le annate non sono tutte uguali e non si può perdere di vista che l'obiettivo primario è la salvezza, che può passare anche da mesi di maggiori sofferenza rispetto a quanto accaduto nelle scorse stagioni. Il rigore conquistato da Ferrari e trasformato da piccolo, per quanto dubbio, ha ridato ossigeno alla classifica e permette al gruppo di lavorare con serenità. Quello del gol resta comunque un problema perché il digiuno è stato interrotto appunto da un penalty. Su azione la squadra ha fatto fatica e se qualcosa ha creato nel primo tempo, nel secondo si sono registrati i maggiori stenti. Ma Marella e Zeduardo sono gli elementi che hanno le migliori intuizioni offensive e da loro nel primo tempo sono nate le azioni migliori. Ci si aspetta di più da Bacinovic e dagli esterni d'attacco. Il rientro dal primo minuto di piccolo sarà funzionale. La fase difensiva è convincente, parte degli attaccanti e poggia sulle solide basi dei difensori aquilanti a menta, ancora bravi con il como. E quando non ce la fanno tocca ad aridità confermare di essere un portiere degno della cadetteria. Decisivo su Gerardi sullo 0-0. Sabato trasferta a Brescia, campo dove la Virtus ha di solito disputato buone gare, ma ha raccolto finora una sconfitta e due pareggi nei tre precedenti. Sarà l'anno giusto per espugnare il Rigamonti? E ora la Lega Pro intanto con le designazioni arbitrali per le gare del prossimo weekend. L'Aquila Carrarese che si giocherà domenica alle 15 sarà diretta da Monreale di Roma 1. Teramo Prato sempre alle 15 ma di sabato sarà diretta da Vagliante di Nocera Inferiore. Poi il giudice sportivo che ha fermato per due giornate il centrocampista terramano Amadio, che dunque salterà sia Teramo Prato sia la gara di mercoledì prossimo, valevole come recupero della terza giornata del Girone B a Sant'Arcangelo. Tra gli squalificati anche per un turno Grifoni del Prato, che salterà Teramo Prato, e il portiere della Carrarese Lago Marsini, che dunque salterà l'Aquila Carrarese. E ora parliamo di Teramo con le parole di Diego Cenciarelli, il centrocampista biancorosso che fa mea culpa per la prestazione della squadra a Macerata e in qualche modo si candida per la sostituzione di Amadio come metodista davanti alla difesa. Domenica abbiamo sbagliato del tutto atteggiamento, quindi è chiaro che la colpa è soltanto nostra, non ci sono scusanti anche perché venivavo comunque da Pisa con una prestazione importantissima, quindi il rammarico è questo, che abbiamo altalenato appunto le due prestazioni, siamo passati da un'estremità all'altra, quindi è una cosa che comunque non va bene, con tutte le attenuanti del caso. È chiaro che domenica appunto l'atteggiamento è stato sbagliato, però l'unica cosa secondo me positiva di quella partita è stata comunque la reazione che abbiamo avuto il secondo tempo, che ti fa capire che comunque questa squadra ha avuto le palle comunque di cercare di riprenderla perché dopo il 3-0 non tutti credo che avevano la forza mentale di poterci riprovare, invece noi abbiamo veramente rischiato di pareggiarla e una squadra che ha giocato completamente, cioè in un mese ha giocato sempre, quindi un po' di stanchezza nelle gambe forse ci poteva anche stare, però la mentalità è quella che non deve mai mancare, domenica è mancata quella soprattutto. A Stefano sappiamo che per noi è un giocatore importantissimo, l'anno scorso l'ho fatto una volta contro la Reggiana, non lo so, dipende dal mister, dipende se mi rifarà giocare perché dopo la prestazione di domenica non so se me la faccia giocare, però è chiaro che io darò il massimo e se mi vorrà far giocare giocherò pure lì. Tu hai scelto di promuovare il contatto? Perché comunque Teramo mi ha dato tanto in questi due anni e mezzo e io spero comunque di poter ripagare questa fiducia che mi hanno dato con magari degli obiettivi importanti che ci siamo prefissati nonostante abbiamo perso questa Serie B e il mio obiettivo comunque è quello di andare in Serie B. Un'altra notizia di calcio, parliamo di Serie D perché nel pomeriggio c'è stata la firma dell'attaccante Antonio Di Nardo che dunque è un nuovo giocatore, un nuovo attaccante del Chieti, un colpo di mercato. Fiore all'occhiello dunque nella campagna di rafforzamento promossa dal patron Pomponi alla caccia dunque della promozione in Lega Pro con la squadra a meno tre dalla vetta, un innesto assolutamente importante, quello di Di Nardo attaccante classe 79 che ha un pedigree importante, in particolare le sue stagioni a Frosinone, ricche di gol. Poi negli ultimi tempi era sceso in Lega Pro in particolare a Dischia e ora l'esperienza in Serie D con la maglia del Chieti che già la scorsa settimana aveva messo in organico un altro colpo da 90 il regista Massimo peraltro in gol nella vittoria di domenica col Monticelli. Un ultimo servizio di rugby, vediamo le immagini relative alla sconfitta casalinga partita dall'Aquila Rugby contro il Petrarca Padova. L'Aquila Rugby Club stecca la prima partita casalinga del campionato di rugby eccellenza. Al Tommaso Fattori il Petrarca Padova si impone per 39 a 10 ottenendo il punto di bonus in classifica. Pronti via e l'Aquila va a segno con un piazzato di Mezeu da centrocampo ma per la prima mezz'ora di gioco i padroni di casa si fermano qui. Complice una difesa neroverde precaria, il Petrarca realizza 4 mete in 20 minuti. L'ottimo lavoro della mediana Sua Nicora è premiato dalle mete di Menniti, Polito, Nostran, Trotta e di nuovo Nostran. L'attacco dei Petrarchini si rivela essere implacabile e neroverdi stentano ad arginare gli ospiti. Alla mezz'ora la partita sembra prendere una piega diversa. L'Aquila trova nella propria mischia un discreto punto di forza mettendo in seria difficoltà il Petrarca. In 5 minuti i padovani commettono 9 falli in mischia chiusa all'altezza dei propri 5 metri rimediando due cartellini gialli. In superiorità numerica i neroverdi riescono a marcare meta con Matoccia concludendo il primo tempo su 10 a 24. Nel secondo tempo viene fuori di nuovo il Petrarca che in inferiorità numerica riesce ad allungare con un piazzato di Fedalti e una meta del neo entrato Luigi Ferraro. La partita perde ritmo e vivacità. Il Petrarca assegna ancora una meta, questa volta tecnica, assegnata dal signor Mecone di Roma. Al fischio finale il punteggio è di 10 a 39. Un'ultima notizia prima di chiudere. L'abruzzese Sandro Di Girolamo è stato riconfermato alla presidenza della FISPIC, la federazione italiana sport paralimpici per i povedenti e ciechi. Di Girolamo aveva già ricoperto la carica fino allo scorso luglio e nell'assemblea straordinaria che si è tenuta sabato a Roma è stato eletto con 66 voti mentre l'altro candidato alla presidenza, il toscano Sandro Benzi, ne ha ricevuti 33. Finisce qui questa terza edizione del TG6. Domani la prima, come sempre alle ore 14. Grazie per l'attenzione e buonanotte. Grazie per l'attenzione e buonanotte.